buongiorno stamattina avevo intenzione di fare i maccheroni fatti in casa invece ho optato per la schirculiata questo è il risultato qui in effetti è dove e dove l'ho fatta e c'è bisogno di uno scolapasta una una scodella con l'acqua e la farina io ho usato la farina di 00 e che cosa si deve fare si deve mettere la farina sulla spianatoia sulla spianatoia e poi passare con tutte e poi versare e indingere le mani nell'acqua e versare sulla farina con le con le mani grondanti di acqua versare versarla sopra e poi con le due mani cercare di creare dei grumi quando si sono stenuti i grumi bisogna passarlo nella scolapasta in modo che scende la farina in eccesso e poi si continua a fare l'operazione finché non finisce la farina per cui bisogna metterne e usarne un po' in più poi ho preparato il sugo un sugo semplice con la cipolla e tutto il resto e ho appena fritto le polpette e quindi poi le polpette le metterò nel sugo e quindi insomma per oggi il pranzo è pronto l'importante non è poi scolare la sciccolata altrimenti diventa collosa perché la ricetta originale altomontese e cioè prevede di non scolarla va bene buon appetito ciao